Sono stato informato dal maresciallo Damiano Novetti, comandante della stazione Carabinieri di Berceto, che sono state ritrovate le corone rubate dalla statua della Madonna delle Grazie sull'altare del santuario il 3 aprile. È una buona notizia, anche se sappiamo tutti che i gioielli con cui era adornata la Madonna sull'altare erano delle imitazioni perché gli originali, molto preziosi, sia per il metallo in oro o anche quelli in argento, visto che le aveva regalate Maria Luigia, sono costudite dal prevosto Don Giuseppe. Questo ritrovamento ci fa molto piacere, è significativo. Nonostante questo, riteniamo opportuno continuare la raccolta di firme tra i cittadini del Comune di Berceto per scrivere al Presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni e a tutte le autorità che desideriamo una protezione maggiore nel nostro Comune che vuole rimanere un'isola felice e siamo tutti rimasti molto scossi da questo furto sacrilego al santuario della Madonna delle Grazie. Le firme possono essere raccolte presso l'ufficio Anagrafe in tutti gli orari di apertura dell'ufficio dalle 8 alle 13 tutti i giorni e a lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.